allora ragazzi il furgone è pronto siamo pronti andiamo al terramo comics pivox sei pronto? io sono pronto siamo abbastanza pronti belli carichi quindi il tempo c'è quindi partiamo andiamo lì e conquistiamo anche si che poi partiamo tu non è che vieni subito io vengo sabato a fare il preciso vabbè partono visto che fa tanto partono quindi mi raccomando dai questa grande responsabilità non mi deludere è il vibe mi raccomando ragazzi lui è addetto al vibe ci vediamo a terra povero stefano l'abbiamo abbandonato il negozio ma se la gestisce lui se la vede lui la mia stantina sono tanti tre quattro vecchietti uno mezzo all'altro guarda questo guarda questo tutti i siti porno io non lo so come si fa oh porca cioè mi hanno lasciato qua quei due stronzi mi hanno lasciato qui a lavorare con sti cavolo dei siti con sti cavolo dei pc sui siti porno dei vecchi che mi portano i pc e mi dicono no perché sai ho preso un virus e togli voi come ha preso il virus dai ci vediamo direttamente a teramo e andiamo a prendere anche guglielmo un altro ragazzo che viene in fiera con noi siamo finalmente arrivati in fiera naturalmente io faccio niente come sempre ecco il buon fabio e vi presentiamo guglielmo stiamo montando i 10 pc qui andrà all'area viar e fuori ci lasceremo il buon fabio saluta dai baci domani arriva stefano domani arriva stefano quando vieni abbiamo delle cose belle per te allora siamo arrivati al teramo comics all'università e stiamo andando dentro vediamo di trovare il nostro stand adesso vi mostro l'arrivo in diretta da me e di congiungimento con il buon fabio salve come stai sono due giorni in tre giorni in mezzo tre giorni che non ci vediamo chiamo al 118 max allora ragazzi la giornata è finita il buon fabio sta dall'altra parte come lo faccio vedere quando sta? sta là contro l'email se fermano mai domani mattina sveglia alle 8 e si ricomincia dai ammazza come lo curi sto viarro ma che è il tuo? dentro vedi opaco dobbiamo dare un'ottima experience ai nostri visitatori quindi comunque dobbiamo tenere bello curato pulito quindi cambiamo la mascherina di appoggio e puliamo le lenti interne tra una persona e l'altra più o meno cerchiamo di tenerlo ottimizzato al 100% adesso è ora di pranzo i terramani a quest'ora vanno a mangiare buona affluenza questa mattina si molto bene il viarre ha bisogno anche di una caricata si di un attimo di riposo di rifiato perché comunque ha lavorato tutta la mattina tanta gente l'ha potuto provare quindi ottimo riscontro molto positivo quindi adesso noi per farlo riposare la facciamo provare ad Antonella la nostra è morta che c'è buono a trovare oggi qui quindi adesso la andiamo a chiamare e la mettiamo qui così buttata nella mischia vediamo cosa esce poi ok adesso tu mi senti no? si si mi sento adesso se ti guardi intorno vedi tutto il panorama sotto di te ne trai un cane un cane rombotico e verrà a trovarti il rombotico ok ok hai reso un po' di mestichezza? si si sei pronta per i zombie? ok che sei? no si aspetta aspetta chiudere 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 non forza non forza veramente no oddio 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 ma ce l'avevo di fronte proprio vedi non forza così oddio ok tiro con l'acqua tiro con l'acqua va bene? ok dopo la voglio andare ad antico la pare provare l'acqua provare l'acqua al posto bella terra non saranno ma Roma diario di bordo ore 11 ore 11 11.05 stiamo abbandonando la frontiera teramese teramana teramana ostacolo lancia brutta cosa siamo andati molto bene diciamo a livello di chiusura eh non a livello di veloce a scaricare bella dai bella fiera bella atmosfera i teramani sono stati ospitali sono stati molto ospitali abbiamo spinto nel 3 perché come abbiamo detto già in precedenza il pivox ha dato forfait perché al secondo giorno il secondo giorno perché sei brutte mamma mamma quindi comunque che andiamo a fare? siamo rimasti io il buon Fabio e il buon Ramza avete visto questa new entry per questo video perché le trasferte in esterna l'avrete già intravisto in un video del Romics quindi adesso non ci resta che imboccare l'autostrada e tornarci remessi messi a casa perché domani mattina bisogna scaricare il furgone e quindi si ritorna alla normalità e niente quindi prima se magna allora allora prima se magna mamma mia non pensaci buon Fabio cosa ne pensi di questo di questo Teramo Comics? allora ti ho detto molto ospitali molto carino tutto molto bello tutti molto bravi tutti molto simpatici buoni rosticini buono il formaggio fritto buona la pecora in generale bella sì bello tutto però sarà anama Roma però sarà anama Roma è Roma è Roma cafibra anche qui c'hanno anche la fibra purtroppo non si può lavorare con 3G con la scheda della 3G non si può fare quindi niente ragazzi per questa esperienza direi che è tutto non so se ci sarà altro adesso vedremo ci troviamo ci troviamo nei prossimi video se vi è piaciuto il video lasciate un bel like naturalmente link in descrizione su tutti i nostri social quindi twitter su cui abbiamo postato twitter quale twitter e telegram in twitter ancora ci manca e telegram abbiamo messo qualche foto così fabbio ha postato qualche foto a tradimento o comunque qualche foto quindi per chi ancora non si è iscritto al nostro canale telegram consigliamo di farlo perché comunque lì quando facciamo questo tipo di cose qualche spoilerino esce fuori qualche foto carina che vogliamo condividere con voi esce fuori poi abbiamo inaugurato il canale di instagram su cui inizieremo da qui a breve non appena avremo sistemato tutto non appena il pivox ha finito di starsene a casa a non fare nulla quindi lo fixeremo lo sistemeremo per bene detto che domani viene a scaricare il football si molto molto lo vedo poi naturalmente il link a tutti gli altri nostri social quindi facebook il link al negozio dove trovate tutto il nostro listino ve lo ricordiamo sempre per qualsiasi domanda curiosità battuta perché fanno sempre piacere anche leggerle eh un commento sotto se vi è piaciuto il video un bel like da me il buon Fabio e il buon Ramza alla prossima ciao 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 ciao